Ciao a tutti, io sono Jean Patry, io sono un nuovo giocatore da Power Volley Milano. Volevo dire a tutti i tifosi, anche a persone del club, che sono molto contenti di essere un nuovo giocatore di questa squadra. Spero che possiamo fare una bella stagione sportiva insieme. Ci vediamo presto al Palazzo. Ciao ciao!